music for sushi restaurant invece oggi pomeriggio facciamo musica per la domenica e abbiamo qua un ospite che insomma sono molto contenta di averlo perché è giovane talentuoso ma tante cose a raccontare lui è rosa chemical ciao a tutti ciao a tutti amici di radio bruno come va come va tutto bene oggi un po stanchi e devo essere sincero ho visto perché loro sono arrivati con questo pulmino rosa stanno facendo un tour per tutte le radio italiane sono tappa adesso ci stava radio bruno ovviamente e devo dire che sono un bel gruppo carico giovane però ne fate di chilometri e adesso tutto il tour saranno 3000 km eccoli eccoli e dormite tutti dentro il hotel però gli spostamenti si tutti tutti col camper a volte napoli roma roma firenze sono comunque spostamenti da magari 3 4 ore ed ora però bello averti qua siamo contenti allora per tutti i nostri ascoltatori che magari conoscono alcuni dei suoi pezzi sicuramente hai un pubblico più 18 20 anni quindi forse alcuni all'ascolto potrebbero essere anche i genitori dei tuoi fan ma cosa cosa ci puoi raccontare di te anche per arrivare a chi è la prima volta che ti che ti sente beh allora sicuramente come ho scritto ieri sul mio sul mio instagram quello che stiamo andando a fare ora non è un tour per far sentire la mia canzone un tour per mandare un messaggio io tengo molto al messaggio che mando e il nostro messaggio è un messaggio di amore di libertà di fratellanza di rispetto e secondo me la cosa più importante alla fine del progetto rosa chemical più che la musica è proprio quello che vogliamo lasciare alle persone questo è molto bello infatti in tanti e ti abbinano anche d'achille lauro in qualche modo lo fa perché come tipo di messaggio diciamo che è simile oltre come tipo di personaggio anche come stile che rappresentate ti piace questa cosa beh allora in generale a me non piace essere etichettato come o si simile a quello si simile cioè io mi sento simile a me stesso cioè mi sveglio non devo assomigliare a nessuno chiaramente abbiamo dei dei punti in comune ovvero sicuramente abbiamo dei temi in comune abbiamo un linguaggio molto simile questa libertà questa libertà di amore anche tutti i punti di vista poi non entriamo troppo nello specifico senti tu nasci come cantante si può dire ho detto come di pop no e anche trap ma cosa significa questo come di hip hop questa è la prima volta che lo sento davvero lo dice wikipedia eh lo dice wikipedia ne dice diceva che un mio amico aveva 50 anni tipo uno con cui faccio musica che ha la mia età quindi gli ha aggiunto qualche anno beh come di suppongo che sia comunque una specie di pop un hip hop che fa un po' un po' preso con leggerezza esatto e ti ritrovi in questa descrizione allora forse il modo in cui in cui tratto certi temi si il messaggio ma io penso che non ci sia leggerezza nel messaggio quindi il messaggio è molto chiaro è molto chiaro forse lo tratto in maniera leggera per farlo arrivare a tutti perché se dovessi fare cioè comunque sono messaggi molto seri molto importanti quello del rispetto dell'uguaglianza della non discriminazione cioè se dovevo fare una canzone seria così penso che comunque l'ascoltatore si fa due si può dire si fa due palle eh capito senti ma facciamo una cosa iniziamo a ascoltarlo insieme no ci ascoltiamo il tuo ultimo pezzo che si intitola non è normale poi ci spiegherai perché si chiama così eccolo che arriva rosa chemical con non è normale per la prima volta qui su radio bruno chemical non è normale che è il titolo sia della canzone che del tour che stai facendo per tutte le radio italiane bella questa canzone molto orecchiavile ci piace tanto grazie grazie però non è esattamente il tuo stile solito perché le altre canzoni come Polka, Londra insomma canzoni diciamo con un linguaggio un pochino più colorito Londra no già era era già agli antipodi rispetto al tuo stile un avvicinamento a questa roba qua e soprattutto poi una cosa che non sanno in molti la realtà è che è nata molto prima Londra di Polka davvero? sì poi la pubblicazione è stata dopo però l'avevi già preparata prima pensa te e tu dove ti ritrovi di più in questo tipo di rosa chemical o in quello di Polka? io personalmente questo poiché quello che è piaciuto di più sia stato l'altro è una decisione dei fan la realtà è che io mi trovo molto più in questo e quindi ti senti pronto a vagliare sempre nuove strade nella musica nuove categorie anche musicali ma sì ma poi alla fine cioè io ho sempre detto dall'inizio che odio le etichette cioè non riesco a dire ok io faccio questo e per magari cinque anni faccio dischi e musica in un certo modo cioè non ce la farei mai beh hai detto bene comunque è il pubblico che decide alla fine quindi loro decidono che cosa piace e questo secondo me piacerà alle radio piace a noi piace quindi ti auguriamo il meglio grazie ma che progetti hai quest'anno novità? allora progetti sicuramente sono grandi abbiamo un sacco di musica in serbo specialmente in serbo ma non in linguaggio serbo ci stava a specificarlo esatto musica in italiano abbiamo un sacco di musica in serbo mi hai detto forse un podcast si può dire forse più che podcast mi piacerebbe una cosa un podcast anche con la parte video ecco non so come si chiama come si no ma in realtà adesso su spotify è pieno di podcast dove si vede anche il video con video ah ok allora podcast sì 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 mi piacerebbe realizzare un podcast tutto rosa dove si parla un po' di sesso un po' di libertà a me piace molto parlare di sesso in maniera libera tu sei libero sessualmente? sì tanto 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 mi piace essere libero è vero così i giovani d'oggi amici miei all'ascolto sono così vivono questa sessualità fluida noi dobbiamo abituarci a questo è vero e nei messaggi che mandate siete molto più avanti di molti di noi quindi assolutamente bravi 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 ma c'è bisogno perché c'è bisogno un attimo anche di sai cosa comunque non è che c'è poca gente così e i giovani stanno diventando c'è tanta gente anche che è sempre stata così ma ha sempre avuto paura di dirlo hai ragione mi scrive un sacco di gente ah io grazie a te mi sono riuscito a mettere lo smalto sono riuscito a fare outing con i miei sono riuscito a dire alla mia ragazza che mi piacciono i piedi cioè per dire sono argomenti che magari per qualcuno sono normali e per altri no è vero e quindi in qualche modo normalizzate aiutate a far sentire le persone parte di qualcosa in cui nulla è anormale oppure normale e questo è proprio anche il concetto chiave del tour della tua canzone esatto bella 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 noi sentite ringraziamo tanto di essere stato qua con noi ti auguriamo non il meglio di più perché sei un bravo ragazzo alla mano e poi chi lo sa anche Sanremo l'anno scorso è spaccato mi è piaciuto tantissimo o chissà ai prossimi anni cosa succederà noi veramente mandiamo solo positive vibe chissà quest'anno che succede non diciamo altro ci piacerebbe molto ciao amici di Radio Bruno ciao amici di Radio Bruno ciao amici di Radio Bruno ciao amici di Radio Bruno